Il futuro di Quara, stella del Napoli, è al centro di intense trattative tra la squadra azzurra e il giocatore, andiamo nel dettaglio. Benvenuti fan napoletani, prima di andare avanti con la notizia, pensate ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi le notizie, il 90% delle persone che ci guardano ancora non è iscritto. Grazie. Secondo l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il Napoli sta lavorando alla cremente per rinnovare il contratto del suo brillante giocatore Quara. Al termine della stagione in corso era previsto un incontro per discutere del rinnovo contrattuale del Giorgiano. Il Giorgiano è stato un fuoriclasse nella squadra, mettendo costantemente in mostra le sue capacità e il potenziale per diventare un campione, catturando così l'attenzione dei grandi club europei. De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe promesso a Quara di adeguargli lo stipendio e metterlo così al riparo dall'apprezzamento di altre squadre. Si tratta di un passo importante per garantire che la stella del Napoli continui a brillare in Italia e in Europa per molti anni a venire. Il futuro di Quara è senza dubbio un mistero intrigante che viene seguito da vicino dai tifosi di calcio di tutto il mondo. Quindi fan, cosa ne pensi della promessa fatta a Quara? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto, è molto importante. Se siete arrivati fin qui lasciate un like se il video vi è piaciuto, e per non perdervi i prossimi contenuti iscrivetevi al canale, grazie.